È abitudine ormai consolidata di parlare di se stessi, del raccontarsi, del dirsi e del dire agli altri ciò che ci turba. Qualche giorno fa è venuta ai miei gruppi del giovedì una signora che si è descritta così, sono una donna tormentata, molto tormentata e io dico ah sì perché vede io continuo a dirmi questa cosa che sto facendo probabilmente la farò ma non funzionerà. Poi mi dico ho sbagliato sicuramente a sposare questa persona perché da tutto questo in realtà è venuto fuori negli anni soltanto frustrazione, dolore e soprattutto tanta disistima. Mi dico Anna ma come fai a stare con uno così, come hai fatto a scegliere uno così? Oppure ancora non so quale direzione prendere, ho avuto un'altra offerta di lavoro ma non so decidere. Si è formata dentro di noi sempre di più l'idea che più le cose sono complicate e più ci attraggono e soprattutto che stare con noi stessi il meglio venga da un dibattito interiore. Parlo con me stessa oppure parlo con le amiche o con gli amici e mi racconto e gli racconto. Abbiamo dimenticato una cosa importantissima che noi siamo seduti come il seme dentro uno scrigno prezioso il quale sta creando proprio me, sta creando proprio te. Ecco perché Jung diceva che dobbiamo essere all'altezza della nostra anima. Cosa vuol dire essere all'altezza dell'anima? Vuol dire che i miei ragionamenti sui miei dibattiti interiori la disturbano profondamente. Dovunque tu vuoi andare devi portarti il carico delle tue contraddizioni. Allora possono incominciare a diradarsi. Cosa sono i rami secchi? Tu che parli a te stessa? Tu che parli a te stesso? Tu che ti dici cosa va bene o cosa non va bene? Tu che ti dimentichi che il processo che svolge le tue caratteristiche è silenzioso. Cosa vuol dire silenzioso? Che l'autostima è silenziosa. Il piacere di stare con me stesso è un piacere che viene non dal pensiero, non dal commento, ma dal silenzio. Questa signora mi ha scritto una lettera qualche giorno dopo, molto bella, in cui dice mentre prima mi facevo domande cosa ha causato ciò che sono, le cose che non sono andate bene, le cose che potrebbero andare meglio, si è come formato dentro di me un vento, uno stato dove mi sono detto ma io non sono soltanto quella lì che continua a ragionare su se stessa. Quelli sono i miei volti vecchi, sono i volti vecchi che sono in contraddizione, per forza sono morti. Come puoi a 45 anni avere lo stesso problema che avevi a 32 quando hai sposato tuo marito? Se non perché tu ritieni che tutta la tua vita interiore, il tuo essere sia soltanto quella relazione, quel rapporto. Perché non riesci a lasciarlo? Perché il lato vecchio di te, quella che l'ha sposato, continua a vivere e continua a lamentarsi. Se tu fossi capace di andare via, saresti andata via. Prendi atto che non ce l'hai fatta. Prendi atto che quel vecchio o quella vecchia che c'è in te, che si ancora alle vecchie posizioni, è lì, sempre lì. Ho visto andar via tutte le domande. Non fatevi più domande. Ho visto andar via la ricerca delle risposte. Non fatevi, non aspettatevi risposte dall'anima. Ho visto arrivare una pace, un benessere che non sapevo da dove veniva. Non fate come quelle di certe trasmissioni, che stanno perché stanno male, che hanno avuto sempre tragedie, traumi e che vivono tutte un grande amore che è finito per ricominciarne un altro. Quel tipo di donna lì, che ragiona come tutti gli altri o come tutte le altre, è sempre perduta. Si associerà dolore a dolore. Il dolore viene per farci soffrire una volta sola, non per continuare a ripetersi. Si ripete perché? Perché noi lo riempiamo di ragionamenti che non sono corrispondenti al mondo psichico del sé, all'anima, al centro. Mentre il tuo centro partorisce te, tu lo stai stancando, continuando a dirti come devi essere. Mi è arrivata la pace perché sono cadute tutte le domande. È caduta l'idea che ci fossero delle cause dei miei disagi. E tutte le donne che c'erano dentro di me tutti quei volti erano vecchi, li ho visti vecchi. Ai gruppi del giovedì io faccio sempre questa domanda. Dico signora questa cosa che lei mi sta chiedendo è la prima volta che la chiedo o l'ha già chiesta? No beh dottore, ne ho già parlato. Allora non me la faccia la domanda perché sta parlando la vecchia che è in lei. Facciamo questo progetto insieme. Fate una domanda nuova. Vedrai che arrivano risposte impensabili. Dentro di te c'è qualcosa di impensabile che non è prevedibile. Se c'è qualcosa di impensabile che non è prevedibile allora il sé ti ama. Ti ama come una donna ama il suo bambino, ti ama come un amante e produce l'energia come hanno detto i saggi dell'antichità per portare te verso la tua isola del tesoro, verso il luogo dove i desideri si realizzano spontaneamente perché i desideri sono fatti per realizzarsi a patto che non siano tormenti della mente.